Soffri di mal di schiena e non sai a chi rivolgerti? la mia amica è andata da questo osteopata bravissimo che l'ha sistemata peccato che a te non è servito a niente sai che mia zia è andata da questo chiropratico veramente bravo peccato che a te non è servito a niente l'amica dello zio del cugino di mio fratello è andata da questo riflessologo plantare che in 3 sedute le ha fatto passare il mal di schiena ah ma dai che bello peccato che a me non è servito a niente ciao a tutti Gianluca Italiano il miglior fisioterapista del mondo secondo i miei figli ovviamente e in questo video parliamo del perché le terapie inutili a volte funzionano del perché la tua amica il cugino o tuo zio sono andati da questo qui e hanno avuto risultati anche se a te non è servito a niente essendo il mal di schiena la problematica più diffusa al mondo e la problematica per cui spendiamo il maggior numero di soldi tra tutte le problematiche e i problemi di salute tutti propongono la loro terapia magica la loro proposta per curarti e quindi fioccano gli specialisti dall'ortopedico al fisioterapista all'osteopata al chiropratico riflessologia plantare il reiki l'ago puntore qualsiasi cosa ognuno tira l'acqua al suo molino ognuno pretende di aver capito tutto dalla situazione e di sapere lui come curarti alla fine qualche volta va bene qualche volta va male quando va bene lui è tutto soddisfatto e incastra la sua parcella e tu sei un grandissimo fan del suo trattamento quando va male ti scaricano come se fossi spazzatura quello che ho fatto nei precedenti video è spiegarti aiutarti a capire quante terapie sono inutili e che non c'è bisogno di andare a fare certe terapie per curare il tuo mal di schiena alcuni di voi però sono presi un po' male perché dicono ma non è vero a me la chiropratica ha aiutato non è vero tu stai dicendo stupidaggini perché a me l'ago puntura mi è servita assolutamente come faccio a negare questo io se tu sei andato a fare l'ago puntura e sei stato bene se tu sei andato dal chiropratico e ti ha fatto tornare a correre non posso certo negarlo io quello che però voglio spiegarti oggi in questo video che il chiropratico l'ago puntore l'osteopata hanno agito su dei meccanismi che sono venuti da te dal tuo interno loro essenzialmente non hanno fatto niente se non metterti nelle condizioni migliori di autocurarti questo meccanismo tanto famoso di autocura è l'effetto placebo c'è molta confusione quando si parla di effetto placebo perché tu penserai di essere stato ingannato non è vero io veramente sono stato bene non è stato effetto placebo non mi sono autoconvinto ecco l'effetto placebo non è autoconvincersi che quella cosa funzioni ma è un meccanismo fisiologico biologico reale in cui vengono messi in moto dei meccanismi degli ormoni che effettivamente ti fanno stare bene quando da piccolo avevo la febbre e mia mamma mi passava la mano sulla fronte per sentire come stavo quella era la vera medicina solamente con quel gesto la mia sensazione di essere curato di essere nelle mani di una persona che sapeva cosa stava facendo e che mi avrebbe aiutato a uscire da quella situazione mi faceva stare bene questi pensieri mettevano in moto dei meccanismi e degli ormoni che piano piano facevano abbassare la malattia farmi passare la febbre e farmi passare anche qualsiasi tipo di dolore quello che succedeva a me da bambino quello che è successo anche a te quando tua mamma ti curava prendeva cura di te succede esattamente nello stesso modo quando vai dal chiropratico dall'osteopata dall'agopuntore non stanno facendo delle terapie utili non sono utili altrimenti le avremmo fatte tutti non ci vuole niente oggi imparare a mettere qualche aghetto imparare a fare qualche manipolazione o qualche massaggio anzi se vai in un centro massaggi thailandese lo fanno nella stessa maniera la vera efficacia del chiropratico dell'osteopata dell'acopuntore non è tanto nella manovra che fanno ma nel fatto che tu ti senti ascoltato ti senti curato da una persona competente se tu andassi da un chiropratico che ti facesse pagare 10 euro in uno scantinato tutto sporco e non ti stesse neanche ad ascoltare non avresti gli stessi benefici per avere un forte beneficio devi andare in un posto dove lui è vestito in giacca e cravatta con il camice dove è tutto molto bello dove la tariffa è molto alta direi almeno 80-150 euro per avere un vero effetto placebo tutto questo per dirti sì è vero hai avuto male sei andato dal chiropratico sei andato all'osteopata e sei stato meglio non c'è dubbio non lo metto in discussione hai effettivamente avuto dei benefici il motivo però di questi benefici è stato legato all'effetto placebo e non tanto a quello che hanno fatto la stessa cosa ti sarà successo da bambino non era la medicina che ti dava la mamma a farti stare meglio ma era la mamma che ti dava l'attenzione a farti stare meglio anche se quella medicina non l'avessi preso tu saresti stato bene quindi non diamo il merito alla medicina per farti abbassare la febbre perché è stata la mamma a fartela passare non diamo il merito al chiropratico se ti ha fatto passare il mal di schiena o alla manipolazione perché non sono stati loro a farti passare il mal di schiena per quanto mi riguarda lo confermo oggi non c'è bisogno più che io metta le mani addosso alle persone per farle stare bene mi basta farle venire nel mio studio parlare con loro a ascoltarle capire quali sono le loro difficoltà i loro dubbi le loro paure e con loro organizzare un piano di rientro un'idea diversa di approccio al problema che gli possa dare fiducia tranquillità e serenità che tutte le cose vanno bene esiste l'effetto placebo usiamo questo effetto molto potente per uno scopo positivo e non solo per vantarci di curare le persone grazie